...che a una nuova vince dei motivi di sicurezza, il Consiglio Unite è stato aperto a tutti i presenti per la volontà di chi parla e di chi ideologica. Ora, in certamente parlo, in maniera informata, per consentire la discussione sul capo che è all'ordinello, io vi chiedo intanto di mantenere un comportamento quando più corretto è possibile e soprattutto vi chiedo di stare attenti, diciamo, nei movimenti, perché soprattutto se è capito che vado a fare questo rispetto al problema. Allora, finita la discussione, cerchiamo di disegnare il numero dei soggetti che sono attivitati a dare il Consiglio Unite. ... 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 Presidente Giorgio Giardatone Canduccio Presidente Presidente Rosca Presidente Fugio Marigiano Laitta Pazaro Presidente 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 e di quanto presenti uno senti la tenuta in vita. Io voglio dire che mi ha detto che sia un minuto di silenzio, perché la voce della nostra comunità è stata colpita da tutto e alla perdita della nozione maurice. E' stato per tutto una parte di una vita oltre che umana ovviamente una vita sviluppa. Io credo che con la doverosa attenzione di chi fa questa attività secondo la passione della politica spero che quando riesco a continuare a stare tra noi anche e dovunque ora sia. E non chiedo un minuto di silenzio. Grazie. 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 Grazie a tutti.